...e un nemico entrato nel nostro settore, direzione 270, distanza 10 miglia, in avvicinamento a 900 nodi. Ghost Rider, 10 gradi a sinistra, direzione 3-0. Aspettavamo visite oggi? Negativo, signore. Merlin, vedi se è uno solo. Roger. Bruce, ce n'è un altro? Negativo, Merlin. A quanto pare è solo. Cougar, vado a farmi un testa a testa con lui. Sta calmo, questa storia non mi piace. Meglio controllare se è veramente da solo. Abbiamo in avvicinamento a 1000 nodi, viene dritto verso di noi. Ok, fratello, vediamo cosa vuole. Porca troia, sono in due! Lì di 28! Nessuno li ha mai visti così da vicino. Che diavolo fanno lassù? Qual è la posizione? Hanno sconfinato di 250 miglia, signore. 250 miglia? Mandiamoli fuori. Cougar, tu prendi il primo, io seguo il secondo. L'ho perso, sono contro sole. Mersa, ma cosa sta facendo? Lo ha individuato, Merlin? Avvirato, lo abbiamo dritto di coda. Valedizione, ce l'ho sopra! A che distanza sono ora? 200 miglia, signore. A 150 fa decolare l'aereo di allerta numero 5. Sì, signore. Città 300, vallo a prendere, Maverick. Abro il portello dei missili. Vediamo se riusciamo a spaventarlo. Forza, vieni. E vieni, così. Preso, l'ho agganciato. Bingo! Lo abbiamo spaventato, Maverick. Se ne sta tornando a casa. Base, qui, Maverick. Il secondo Mickey sta rientrando. Bene, posizione? 180 miglia, direzione 010, signore. Cougar ci ha puntato contro un missile. Togliamoci di mezzo! Ma che cazzo sta facendo? Mi sta attaccando! Porca troia, base! E qui, Ghost Rider! Il MIG mi ha puntato contro i missili. Chiedo autorizzazione a fare fuoco. Non fare fuoco se non spara lui per primo. Gus, eccoli lì, proprio sotto di noi. Il MIG è di coda Cougar in posizione di fuoco. Non lo farà, Gus. Lo avrebbe già fatto. Vuole solo farci incazzare. Maverick, vieni qui e levami di torno a questo stronzo. Calma, Cougar. Fallo di viare. Vira a destra. Sto arrivando. Visto che non posso buttare giù questo figlio di puttana, divertiamoci un po'. Tu ti diverti così, Maverick. Salve! Guarda l'uccellino. Guarda, guarda che roba. Dovrei fare il fotografo. Cougar! Il suo posto è il MIG se n'è andato. Cougar, qui in Maverick. Ci siamo divertiti abbastanza per oggi, non credi? Comincio a essere a corto di carburante, perciò torniamo alla base. Ci vediamo sul fonte. Cougar! Cougar! Cougar, abbiamo poco carburante. Dobbiamo andarcene di qui. Cougar! Siamo quasi a secco. Cougar! Andiamo! Cougar! Forza, Cougar! Torniamo alla nave, dai! Forza, Cougar! Vandelo venire giù subito, è a corto di carburante. Cougar, dobbiamo portare giù quest'affare. Siamo quasi a secco, mi hai capito? Che cosa? Grazie a tutti.